La società in cui noi viviamo spegne in un certo senso i tuoi talenti. Voglio spiegarti una cosa. Quando davo il percorso di chiaroveggenza, e tra l'altro si riaprirà con l'Accademia molto probabilmente, ebbene io mi ricordo una cosa, che una buona parte dei partecipanti era riuscito, in poche parole, a guardare un mondo esterno attraverso gli occhi chiusi. Allora mi sono detto, non sono l'unico, non siamo gli unici, i sottoscritti e gli altri, ci sono altre persone che possono, attraverso un percorso, sappi che non ti sto vendendo niente in questo momento, perché il percorso io l'ho terminato per questioni tecniche, perché non ci stava più nel calendario. Ora, ognuno di noi ha dei talenti, tu hai dei talenti. Cos'è che ci rovina? L'ambizione. L'ambizione la smagna per il successo. E arriviamo a dove volevo arrivare. Io ho notato che più corriamo indietro alla parola successo, fama, più rallenta tutto. Nel momento in cui tu doni il tuo talento, attenzione, donare non significa lo do gratis, anzi puoi farti remunerare anche un bel po', ma non è questo, è la competizione. Se c'è una cosa che io ho imparato dalla mia compagna è proprio il perché dover competere con altri. Guardali, prendili di esempio, migliorati dove loro magari hanno delle pecche, sii più bravo, ma non vivere dentro a tutto questo come se tu dovessi eliminarlo. Esiste, ti dicevo questo principio, più noi siamo ambiziosi e con la smagna del successo più si allontanerà il risultato. Lo avrai, non ti preoccupare, che rimane un sospeso. Sembra quasi una minaccia da parte dell'inconscio. Se invece tu hai un approccio di voglio arrivare molto in alto per riuscire a dare quello che riesco a fare con l'arte, con la musica, con tutti i talenti e lo scultore per cambiare la vita degli altri in meglio e la propria, ovviamente. E a quel punto ti arriva più fortuna di quanta tu ne potresti aver avuta se al primo posto ci metti la parola ambizione e successo. Ambire a qualcosa non è sbagliato, è la smania che è sbagliata. Quindi il mio consiglio qual è? Prendi il tuo dono, riconoscilo prima di tutto, prendi il tuo dono e cerca di darlo senza aver qualcuno con cui doversi raffrontare in modo, diciamo, cattivo e talvolta anche ho visto casi anche di disonestà, sinceramente. Però, vabbè, quello è un altro discorso. Magari fammi sapere tra i commenti cosa pensi di tutto questo, ma per me esiste questo principio. La smania ti allontana dal risultato. Un abbraccione. Grande, grande, grande. Ciao, ciao, ciao.